L'abitazione da Zia Peppina a Giaia in anagrafe Giuseppe Sorce in via Tomasino di Bartolo 33, 100 anni l'8 giugno 2018. Buono sei! E io insomma mi mangio la spiglia. Buono sei! Sì! Quando c'è maghiere amatrice? Amatrice quando c'è maghiere? C'è maghiere amatrice? I figli cos'è? Tita! Tita? E Giuseppe? E Giuseppe! I nipoti cos'è? Quando c'è maghiere amatrice? Cos'è il nipoti? Chi vuole l'acqua? L'acqua vuole l'acqua! Sì! C'è l'acqua! C'è l'acqua! C'è la bottiglia qui! Ora c'è Peppina! Ma ora mi va a dire quanti anni avete? Cui! Io quanti anni hai? Sì! Ottanta anni! Nooo! Un momento! Un momento c'è sbaglio c'è! Quando nasce 1900? Quando nasce 1900? Quando nasce? Quali anno? Anno! Aspetta! Un anno! Quando nasce? Quando nasce? Quando nasce? Quando nasce? A giugno! A giugno! A giugno! A giugno! 8 giugno! 8 giugno! Mille... 1918! 1918! Quindi? E allora 1918! Al 2018! Quanto sono? Quanti anni hai? Ecco! 65 anni! Ma hai 65 anni! Allora va a prendere la pensione! 65! Ma hai 65! Ma va a prendere la pensione! 1928! 1928! 1928! Così? Niente! Un è bravo in matematica! 1929! 1929! 1929! 1929! 1929! 1929! 1929! Normandola! 1929! 2029! 2030! Eh, ora è… 2029! 2031! 2130! 2031! 2099! 2130! 2099! 2100! La mattina che si mangia? Che mi mangia? Che si mangia la mattina? Un latte Che c'è un portatite? Un latte con il caffè E un biscottino? Un biscottino? Con il pane Colazione completa Colazione completa Proprio completa Caffè con il latte Caffè con il latte Poi ammazzino 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 Quindi mangia all'orario All'orario Quando dici a pagina si ci dice Quando dici a pagina mangia A pagina, non a pagina accadita C'è niente C'è niente Padre Alfonso Padre Domenico Padre Alfonso Padre Alfonso Padre Domenico Padre Barcellona Padre Angelico Padre Angelico Padre Angelico E tu? Quali palline si ricorda? Padre Angelico Padre Messina Padre Gimont Padre Gimont Padre Cicero Padre Gimont Padre Cicero Padre Alessi Padre Messina Che è? Padre Messina Ma ora è l'annunzio. Come dici? Mamati, ora è l'annunzio. Ah, Samati è l'annunzio. Mi sto dicendo che Samati è ormai l'annunzio. Quanti anni ha? Mamati. Eh, Samati. Mamati? 85 anni. 85 anni. 85 anni. Invece chi è di 90? Quando è 90? 85 anni. Certo, certo. Ma già fatti? Avva a fare. 90 anni. No, dico, avva a fare. O le fici? Le fici 85 anni. Un anno non vuol dire. Niente, devo cacciare sui gesti. Voglio ringraziarti Per il bene di noi Il segreto, mamma Della vita hai dato a me Hai racchiuso in cuore Con una famiglia di due Solo il tuo sorriso Hai dischiuto per me Grazie perché mi hai donato la vita Mentre per te C'era solo il dolore Ora il mio cuore ti dice Mamma Mamma Grazie per il tuo amor Anche se domani Non sarò vicino a te Resterà il tuo amore Una luce in fondo al cuore Non sarò vicino a te Non sarò vicino a te Resterà il tuo amore Non aurora vicino a te Non tiên con non può 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 Grazie a tutti.